La scorsa notte alcune automobili sono state distrutte dalle fiamme in via Riminagela. Secondo una prima ricostruzione, che ipotizza la natura dolosa, l'incendio sarebbe stato appiccato a diverse auto appartenenti a marito e moglie. Le fiamme, inoltre, avrebbero coinvolto anche un'auto parcheggiata accanto. Da una prima analisi dei vigili del fuoco sarebbe emersa la natura dolosa dell'incendio. Per questa ragione sul posto è arrivata la polizia, che ha iniziato tempestivamente le indagini per fare chiarezza sull'episodio.